Ti piacciono proprio, eh? In Australia? Oh mamma mia! E ora chi glielo dice a Carlo? Posso comprare qualcosa per Carlo? Va bene, che cosa? Carlo! Ti ho comprato questo, così ti ricordi di me. Marta? Carlo? Ciao! Me l'avevano detto i miei che sareste tornati. Quanto tempo, eh? Sì! Qui quando me ne sono andata ti ho regalato una noce. Ti ricordi? Sì che mi ricordo. Ce l'ho ancora? Davvero? È un po' cambiata, ma ce l'ho ancora. Ci siamo seduti sotto. Wow! Sì che mi ricordi di me. 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 Sì che mi ricordi di me.